Ragazzi, ci stiamo ancora pestando con Michael. Abbiamo bloccato i suoi corpi. Bacchino! Tu non riesci a capire quella piazza! Tu non riesci! Tu hai perduto, mio amico amico! Tu hai perduto! E' dura ragazzi, stiamo schiacciando come pazzi! Quindi, veramente, ancora un po'. Dai! Dai, ciao! È terminato! Ora! Cosa? È terminato! Oh, papà! È vero! È morto! È morto! È morto! Non ti fai scoperto Ti ho dato la mia mano E' la mia Come on Dutch Let's go buddy Sì, abbiamo fatto, abbiamo vinto, vabbiamo, vieni! Sean ha fatto, è il solo uno, il resto di noi... No. Ho provato. In fine, non è vero. Voi, andiamo. Possiamo fare. Voi, Dutch! Voi! 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 Red Dead Redemption 2. Alcuni anni dopo. Un nuovo inizio. Un carro. Chi ci sarà su questo carro? Un carro. Chi ci sarà su questo carro? Voi! 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 Vi! Voi! Voi! Buongiorno e sincero. Sempre sincero. Talvez non sempre buono, ma sempre sincero. Questa vita ho stato sottotitoli con modi morali. Questa è la moda morali. Guarda per i ragazzi! Prima di trattare a fare come un'erro in un libro! Cosa sai sui errosi e libri? Morion sta diventando abbastanza bene. Ci sono altri libri. I libri sono Jacks. Quindi ragazzi... Quindi ragazzi... Cosa c'era? Cosa c'era? Cosa c'era la madre. Con i libri. Cosa c'era? Cosa c'era... Cosa c'era la madre. Cosa c'era Calloway e i membri dalla luna. O... Cosa c'era... Cosa c'era... Cosa c'era? Cosa c'era? Cosa c'era? Cosa c'era? Cosa c'era... Dunque, ovviamente Jack ha imparato a leggere da quello che abbiamo capito rispetto ai suoi genitori e legge le storie del ciclo arturiano, appunto, dei Pendragon, Excalibur, la spada del lago, o, come meglio, la spada nella roccia, per i più famosi, perché poi venne conficcata da Uther, padre di Arthur Pendragon, nella roccia con la maledizione, nella sua morte che solo suo figlio avrebbe estratta. E da lì poi nasce tutta la storia, ma non siamo qui per narrare la storia del ciclo arturiano, della storia di Camelot, soprattutto. Siamo qui per giocare con John Marston adesso, ragazzi, come vedete. Dunque, a Strawberry ci fu un massacro quando liberammo Mike con Arthur. Vi posso dire che il grosso del gioco è andato, il grosso del gioco noi lo giochiamo con, come si chiama, con Arthur, però attenzione, possiamo continuare a giocare con John. Quindi, ragazzi, dobbiamo cercare un lavoro. Abbiamo la bisaccia di Arthur, come vedete. La mia esposa e il nostro figlio, siamo scopriati un po' giorni a qui, fortunati di riuscire con le nostre vienze. E ora... Beh, bisogna di acqua, c'è un po' di città. D'acordi un po' di città? Si, magari tu puoi portare alcune cose a Fronghorn per me. Sì, vedi a via il centro, pasto e giillo. Seguire il nord, ci porto a te lì. Non so dove, ma sicuramente potrei riuscire. Puoi riuscire a ora. È un paese di scettio. Bene, chiamo. E dove città? E' facile trovare lavoro, dai su, incontrerà Begay allo studio del dottore, quindi. Ecco qua, deve essere qua. Quindi Strawberry, ragazzi, si è ripreso dopo quella sparatoria di anni prima, dove abbiamo massacrato mezza città. Certo, John. Oh, è così. Questo è il modo a farlo. Mi racconto a te. E cosa suggerisci ora? Io stai qui e continui con il lavoro. Desserti i miei prodotti, e poi mi ricordi. Ok. E John, ti amo. Non ti esqueci. Non sempre. Non non. Ok. Quindi, come vedete, il nostro John Marston, che ora si fa chiamare Jim Milton, ha deciso di mettere tra virgolette la testa a posto. Dopo... Ok. Ok. Perfetto. Passiamo in dinamica, ragazzi. E consegniamo la merce a Ranch Promgon. Dunque, allora, due parole. Tanto non parlerà da solo, quindi non penso che andrò su nessun dialogo. Ok. Ha deciso la strada da prendere il nostro Jim Milton. Oramai lo chiameremo così. Dunque, potevate scegliere anche, nello scorso episodio, questo dovrebbe essere il cinquantaquattresimo, se la memoria non mi inganna, di andare, ragazzi, verso il tesoro. E io avresto ottenuto, di fisso, un finale malvagio. Come sapete, se agite in modo malvagio, vedete un lupo e non un cervo. E comunque si vede cielo tempestoso, non luminoso. Eh... Potevamo avere anche il finale, accompagnando John, ma avendo fatto scelte malvagie. Quindi, Maika ci avrebbe sparato in mezzo agli occhi e saremmo morti così, con il finale, vedendo sempre il lupo. Dunque, quello che vi dico è che... Io sono contento di aver fatto questo finale. Abbiamo visto, no John, Arthur su un'altura. Un'altura, appunto, lì, abbandonato se stesso. Morto da solo, quindi. All'inizio pensavo che ci fosse la possibilità di rincontrarlo alla fine ancora vivo, ma non possiamo far sopravvivere Arthur Morgan. Questa è una cosa oramai dichiarata da tutti. E quindi che dire. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vediamo dove ci conduce la strada. Ok. 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 Dobbiamo superare e poi andare a nord. Ah, le buone vecchie strade battute. Qua era la rotonda dell'epoca, dove tutti si incasinano il giorno d'oggi nelle rotonde. Dove che sembra più che altro un triangolo, quindi un crocevia, per così dire. Ok. Continuiamo. Speriamo di essere quasi arrivati, eh. A dire è vero. Beh, questa dovrebbe essere l'ultima svolta, eh, che prendiamo. Comunque, in base alle indicazioni che ci hanno dato. Contato che ci sono fidati di uno sconosciuto, avrebbe anche potuto prendere il carro con la merce e scapparsene. Il ranch dei Gaddys, ragazzi, sarà il futuro per John Marston barra Jim Milton, a breve. Sperate. Ovvero ciò che vedrà i prossimi eventi. Abbiamo due capitoli da giocare ancora insieme. Uno abbastanza lungo, un altro un po' più breve, che concluderanno ufficialmente nell'epilogo, qua che stiamo giocando adesso, che comunque credetemi ragazzi ci faremo ancora un bel po' di episodi perché sarà ancora abbastanza lungo, concluderanno Red Dead Redemption. Eccoci qua. C'è il signale del business del barco? Sì, signale. Signale, signale, signale è il presidente Dicketts. Jim Milton, che portano alcuni di costruzione dal mercato al mercato. Come ok. Questo è bello piacetto. Sì, è bellissimo. Le mandano tutto? Sì, credo così. Quindi, partner, il tuo boss? Hai cercato per le mani? Cosa? Hai cercato per il lavoro? Sì, mia figlia... è perdita il negozio con la sua famiglia e si tratta, è una storia. Sì, non lo so. Le mani per le mani... è molto problemi. Sono un buon lavoratore. La mia figlia Agatha, anche il nostro bambino. Lancelot, siamo tutti bambini. Molto bambino, bambino? Fai fuori qui! No, questo non è molto vicino. E ci spettaciamo, non è vicino? Hey! Mi piacere se faccio una di queste piazza? Metto questo! Delicioso! Oh! Quando è il boss mani vendere questo bambino? No! Non c'è nessuna plancia per questo. Se voi vogliamo drink? E' qualcosa di bello buono, uscate il bambino. Poi la rimanere! Poi la rimanere! Queste piazza sono la sede! Poi la roma! Poi! Siamo sempre da qui! Siamo sempre da qui! Poi! Poi usare questo bambino! Perfettare sullo! Aspettare sullo! Ok, possiamo prendere questo cavaglio. il belga da tiro, perfetto allora dobbiamo riprenderci il nostro carro ragazzi più in fretta possibile mettiamoci davanti a loro ok riportiamo il carro al ranch non so bene come si pronunci ragazzi ma potrebbe essere dunque subito problemi come siamo arrivati nel nuovo ranch però abbiamo chiesto abbiamo chiesto se possiamo lavorare qui e hanno fatto un po' una faccia schifata l'idea però che dire grazie milton non è? questi ragazzi sono da Laramie lavorano per Mr. Radle grazie non mi ricordi ascolti non ho cercato di carità o niente ma sono seriosi hai lavoro? noi lavoriamo io posso fare qualcosa noi abbiamo 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 chiesto di noi un po' giorni Noi abbiamo un'arriata in casa, tu sei un'arriata. Sto lavorando più difficile da nessuno di loro. Sono davvero honesta, e mia moglie... anche se lei abbia pensi di piacere, lei funziona. Si sembrava abbastanza. Quali problemi hai fatto? Noi problemi, signor. Soprattutto per il mio fratello. Ha tracciato e lo scopo di loro. Siamo buoni persone. Siamo lavorati. Anche Lancelot. Cosa ha bisogno di un uomo? Cosa un'arriata da cuore. Cosa... Scusate di noi una scuola. Se posso capire, tu già lo sai. Si. Mi ha chiesto di chi che ti avrebbe avuto. Ma ci faremo una scuola. Vi farò che il signor Gettys sappiamo quando lui e la sua esposa torniamo domani. Grazie, signor Dickens. Andiamo a prendere la mia mamma. No, non, resta qui. È molto tardi. Siamo a prendere la struzione. Siamo a prendere la struzione. Siamo a prendere la struzione domani. Vi bisogna andare in caso di più di questi ragazzi di Laramie. A prendere il suo ragazzo. C'è una piccola cabina da un'arriata passato. Se funzionano, voi tutti potete stare qui. Grazie. Non lo regrettate. Sì. Siamo a prendere la struzione. Ho lavorato per voi domani quando il signor Gettys ritorna. Ecco qua. Abbiamo trovato la sistemazione. Abbiamo un cavallo qua, come vedete, a disposizione. E comincia la parte 1 dell'epilogo. Ranch Prenkhorne. E posso dirvi che ne vedremo davvero delle belle in questa parte. Ed eccoci. Allora. Abbiamo delle missioni, come vedete. Andiamo a fare un punto della situazione. Abbiamo Tom Dickens, che è la persona con cui abbiamo appena parlato. Abbiamo ancora la pesca con la tortizia, ok. Che non andremo a fare. Quindi andiamo da Tom Dickens, ragazzi. E partiamo. Di prima mattina pronti a lavorare. No, non era nulla, signor. No, David Gettys. È piaciuto con te. John. Jim. Milton. Grazie per l'opportunità, signor. Tu e Mr. Dickens. Workate duro. Se sei sincero, tu avrai la sua proposta. Io prometto di questo. Il ragazzo ha una famiglia. L'unico. E meglio lavorare extra duro. Buongiorno, ragazzi. Sì, signor. Sì, John. Jim. Extra duro. Hey! Hey! Che qua! Mr. Dickens? Quindi ragazzi, siamo l'ultima ruota del carro. E ci faranno fare di tutto, immagino. No, non è vero. È vero che la tua famiglia è in... ... il... ... il... ... il... ... il... ... l'acqua? Ah, credo che è. Mi piace se andiamo a incontrare loro? Non di tutto. Hey! È vero quello che hanno detto sui quando tu arrivai? Che... ... che... ... tu... ... fuori delle tue... ... le tue... ... non... ... non discutere questo in fronte di mia figlia? Oh... ... non... ... sicuramente... ... sì... ... ovviamente, signor. Io non voglio un warrior. Oh... ... sì... ... sì... ... sì... ... ... questa è Milton! Jim Milton! E come sei che sei... ... questo tipo di ragazza che ci ha collato? Grazie, signor. Credo che possiamo essere bene qui. È un lavoro di rancho. Questo posto è... ... è bene. Ma qui hai cominciato la tua carriera in rancho ... di mettere il peso. È vero, Jim. ... ... cosa ho dovuto fare? Il posto è vero! Quindi ti mostrò a tutti gli uomini? ... ... è vero! Io non avevo molto di una scuola! ... io devo andare. ... ... Jack... ... quando sei finito qui, vieni qua e vieni qua. ... ... io ero per la carne. ... ... io... ... ti... ... ... ti... ... ti... ... ti... ... ti... ... ti... ... io... ... ti... ... ti... ... io ero per... ... un nuovo... ... in questo... ... quando hai arrivato qui? ... quelle macchine? ... ... io ero per la mia macchina... ... è tutto. ... non è nulla. Oh, non è nulla. ... è tempo che qualcuno si stia a questi ragazzi... ... 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